Nei studi di Abruzzo Web, Lucia Pandolfi, candidata con la lista Regione Facile, che sostiene il candidato presidente Luciano D'Alfonso, alle elezioni regionali del prossimo 25 maggio. Bentornata. Campagna elettorale in pieno svolgimento, quasi a metà del guado possiamo dire. Che sensazioni ha avuto riprendendo il contatto, il giro con la gente a caccia di voti, ma non solo, a caccia anche di problemi delle persone e distanze da portare poi in Consiglio regionale? Sì, oramai siamo a buon punto di questa campagna elettorale e devo dire che personalmente l'ho trovata, devo dire, fortemente interessante, sotto un aspetto principalmente. Più volte ho denunciato che l'azione prioritaria che questa Regione dovrà affrontare, ma già dal 26 maggio, è quella della riattivazione immediata e di tutto quello che ne consegue rispetto al disastro socio-economico che questo territorio presenta. Devo dire che grazie alla campagna elettorale ho avuto non solo conferma di quello che più volte ho denunciato e ho ritenuto uno dei punti prioritari per i quali io mi sono candidata, ma purtroppo devo dire che in questo momento ho avuto la certezza che la situazione è molto, ma molto più grave di quello che molte persone e anche personalmente, insomma, ne avevo conoscenza. Sotto quali aspetti in particolare? Ma guardate, io credo che il problema della difficoltà delle imprese e quindi di tutto quello che, insomma, delle imprese sia rispetto al, insomma, al lavoro, a tutto quello che ne consegue nella difficoltà di poter prendere, diciamo, il lavoro da questa ricostruzione, che comunque si presentava, tra l'altro, come un'occasione unica in questo territorio per poter far riattivare perlomeno l'economia locale e devo dirvi che l'aspetto più grave che ho trovato è che le imprese non solo non sono riuscite ad ottenere quello che immaginavamo potessero ottenere in un cantiere che era stato definito il più grande d'Europa, ma devo dire che, tra l'altro, un po' per le difficoltà che tutti, insomma, conosciamo rispetto, per esempio, anche alle piccole imprese che si sono trovate con il dover confrontarsi con grossi colossi venuti da fuori, con tutti i problemi conseguenti al fatto che il piccolo non è riuscito magari ad accedere, quello è un altro grande problema, ai grandi appalti, a tante situazioni, cioè il problema del rimborso che queste imprese hanno dovuto comunque nei loro costi affrontare e poi magari non vedersi rimborsare immediatamente i costi e quindi molte sono andate in fallimento. Ma un'altra delle difficoltà che ho riscontrato, per esempio, è quello del confronto con il sistema bancario, che credo che sia uno dei problemi, anche questo, da affrontare nella prossima legislatura regionale. E ripeto, con tutto quello, dicevo, che ne consegue, perché poi vediamo che i dipendenti, gli operai, cominciando proprio dal basso, sono a casa, sono in attesa di lavoro e tutto questo, purtroppo, poi si confronta con ormai un territorio che, devo dire, veramente è nel disastro generale. Ecco, alla luce di questa situazione, quindi, come dire, il paziente è più grave di quello che si pensasse, come una metafora medica, si potrebbe dire, servirà un'azione ancora più decisa, ancora più incisiva, ancora più veloce, un po' come la sua lista, facile e veloce, diceva il Presidente D'Alfonso, una volta è entrato in Consiglio regionale, qualora chiaramente il centrosinistra vinca le elezioni. Ecco, ha già pensato lei a un primo provvedimento legislativo che si potrebbe mettere subito in cantiere oppure subito approvare con i banchieri emiciclorinnovati. Guardate, riallacciandoci un po' a quello che il nostro Presidente candidato dice sempre, sicuramente l'azione legislativa deve essere rivolta alla sburocratizzazione, allo snellimento dei procedimenti a cui sono sottoposte queste imprese per poter intraprendere la loro attività. Questo è uno sicuramente dei problemi più grandi. Ce ne sono un'infinità di problemi, ma ecco, accentuato un po' il cuore della situazione, il cuore è questo, che questa prossima legislatura ha bisogno di prendere immediatamente presa d'azione sul territorio dal 26 di maggio. Per far questo il Presidente, noi ci auguriamo che sia il Presidente D'Alfonso, io ne sono convinta, per il bene del nostro territorio, ha bisogno di avere una squadra immediatamente capace. L'azione, ripeto, non ci permetterà di avere tempi di pause, anche di, come devo dire, come sono successe in tutte le altre legislature, di tempi tecnici per poter cominciare poi l'attività vera. Noi, insomma, il territorio richiede l'immediata azione, l'incisività e soprattutto il decisionismo. Questo è uno, secondo me, dei fattori più importanti, il decisionismo. Non abbiamo più tempo e in questo riponiamo tutti quanti la nostra fiducia, intanto nelle capacità del nostro candidato Presidente e soprattutto in quello che, insomma, io in questo momento farei anche un appello un po' ai cittadini aquilani. Andate, vi prego, tutti quanti a votare. Non fermatevi perché questo sarà il vostro contributo più grande per questo territorio e soprattutto scegliete i rappresentanti che riterrete, insomma, più capaci con l'esperienza dovuta per poter agire immediatamente rispetto a quello che io precedentemente appunto accennavo come una necessità immediata. Ecco, a tal proposito si dice agli aquilani votate e votate aquilano, però non è così facile perché nonostante la partenza appunto il panorama si è parcellizzato, ci sono candidati del PD, ci sono lei e altri nelle liste civiche del Presidente, c'è la variabile di Abruzzo Civico che ha trovato ospite un altro ex sindaco come lei, Gianna Anastasio, quindi insomma il panorama è abbastanza variegato. chi danneggerà e chi favorirà questo? Mi appello nuovamente alla responsabilità di ogni cittadino. Io penso che c'è possibilità di poter scegliere. La conoscenza di ognuno di noi credo che sia abbastanza nota, ognuno di noi ha una sua storia, almeno per la maggior parte dei candidati, ha una sua personalità politica e credo che i cittadini possano con certezza fare la loro scelta. È logico, questo credo che sia un po' il pensiero di tutti, sicuramente mai si può essere certi al 100% della riuscita, però è pur vero che una decisione deve essere presa, che la fiducia va riposta a quello che ognuno di noi pensa che possa essere riposta meglio, ma soprattutto, io lo ripeto, che ogni cittadino senta la responsabilità e soprattutto la voglia di voler scegliersi il candidato che ritiene migliore. Questo perché non c'è cosa peggiore, a mio parere, quando un territorio decide che il segno di un'eventuale protesta, che la possibilità di far fare agli altri possa essere, diciamo, la soluzione, non c'è cosa peggiore per poi ritrovarci in un paese che sicuramente, a mio parere, non avrà un futuro migliore di questo. Grazie Lucia Pandolfi. Grazie.